Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Laura Valente, una figura di spicco nei Mattia Bazzare moglie di Mango, si è dimostrata sia estremamente felice che profondamente sconvolta dal successo di sua figlia Angelina, la talentuosa vincitrice del Festival di Sanremo. Non c'è dubbio che Angelina abbia ereditato il talento musicale da entrambi i genitori. Dopo la sua vittoria a Sanremo, è stata la madre Laura la prima persona con cui ha voluto condividere la sua gioia. È stato più che altro un gioco di sguardi. Eravamo in videochiamata ma non riuscivamo a dirci niente, ha raccontato Angelina durante un'intervista. Laura, d'altra parte, ha espresso una profonda felicità mista a sconcerto per il successo di sua figlia. Afferma che la giovane cantante di 22 anni sia la perfetta fusione dei talenti e delle passioni di entrambi i genitori. La famiglia Mango Valente continua a lasciare un'impronta indelebile sulla scena musicale italiana, con Angelina che porta avanti il loro legato ereditato e il loro straordinario talento. Grazie. Grazie.